Ciao ragazzi, benvenuti su Faction, il bellissimo server di Lightcraft e nella serie interattiva con gli iscritti Oggi ragazzi ho un raid a una F.O.M. che ho trovato, che non ho trovato io, che mentre parlavo così con Mega Assassino Mega Assassino è il ragazzo che mi aveva tippato al raid in cui mi hanno bannato, in buona sostanza E lui mi ha tippato là, allora stavamo ancora un po' parlando, ma questo il giorno dopo, stavamo parlando del raid che avevamo fatto il giorno prima E che fine avesse fatto la base, che tra l'altro ragazzi è esplosa, non sono stato io, ma è durata un giorno E niente, abbiamo trovato un'altra base sottoterra e oggi andiamo a griffarla Quindi godetevi il video di oggi, sarà molto confusionario, ma spero che vi piaccia, buona visione Una volta ho fatto il gym di tipo 3-4 casse di Brot 4 in 3 Oh, Blue, Blue ho trovato nel fiume, cazzo c'è tutto nel fiume Sì, davvero? Sì Oh, posso raidare con Blue? Ma davvero? Non ci credo Blu, Blue posso raidare con te? No The Dragon King Dai, fammi ridare con te, tanto Dammi 10 secondi Non ci credo Venga, accetta No, no, non accettarlo Non ti faccio nulla Lui ci vende la home di Veta per un milione No, dai, accetta Guarda, non ci credo, guarda sotto qui, stanno tre persone qui sotto Dai, mi puoi accettare, Veta Che stavo parlando a caso, Blue, te lo giuro Aspetta, ho un altro raid Sono qua sotto Venga, accetta Vado a prendere un piccolo Senti come si fanno Venga, accetta Non accettarlo, mi raccomando Dai, non lasciatemi da solo, cioè mi sei tu Le differenze Oh, ma è claimata anche No, ma non li vedo, non so io dove sono Tu li vedi? Sì, prima li ho visti, stanno qua sotto Sì, mego, chatati più a che vi aiuto No Mi porto la gente, Dio Mi hai appena dato 20 stack Sono dentro la base Eh, ti ho dato 20 stack Non mi prendo bene col te No Adesso accettate, non fate i lezzi Guarda, non ci credo Ci sono Venga, accetta Devo mettergli elementi Devo mettergli elementi Aiutami, venga Aiuto, non posso Eh, se mi accetti lo io, ti aiuto io Cazzo, cazzo Blu accetta, blu, blu accetta Non posso Blu non morire Blu non morire Blu accetta, aiuto Sono pro 4, li hao Entra climb Ti, problemata, figli di p***a Io li odio sti nomi Ok Ok, ora posso colpire indietro Ce l'ho fatta Sì, uno è morto Sì, li ho uccisi Blu accetti Aiuto Miseria Mi hanno arato Aiuto Non riesco Il mio compagno di alleati Il problema non è giusto Cioè, questo te li dè In dreams Per forza Sono rimasto incastrato No Mi ha messo il piluppi Sto passando Non mi funziona Rennet Blu, appena sei fuori Vieni Blu, prendi il piccone E rompi sto cazzo Di cosa Hai climbato tu Non posso Ma andate No Rompiti Ti prego Ti prego Rompiti Vabbè, blu vai Ti strucci Ti strucci Dai Mi sa che è Ci sarò quasi Venga, accetta Hai un acciarino blu Adesso vengo a liberarti Stai sciallo Hai un acciarino Hai un acciarino Vieni 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 Posso entrarmi io No Tu devi darmi la base di Veta Se vuoi entrare a qualunque raid Ma se Veta abita con me Io non posso darti casa mia Lo so Però Veta Veta mi ha distrutto la base Senti Ti tipo un altro raid Di uno di Che è per Lord Guarda che non sparano neanche Dai Ti tipo in un raid di Lord Però tu accetta Stai cremati Va bene L'accettiamo Perfetto L'accettiamo Qua Qua è tu Dai Sei in debito di un raid Dai Il prossimo raid Ti tipo X Andy PvP Quella ragazza Come si chiama Quella testa di quella ragazza GG Ragazzi Io che cazzo Che trovo le case Non ci credo Mi vedere Ce n'è uno a questo Oh Blue Io non ho più spazio Per posare roba Già il mio stesso problema Di mezz'ora fa Ok Blue Sei scomposto? Ma hanno qualcosa Ti diamo Antermi Sto prendendo la roba Che Che li ho uccisi Oh Blue Ma questi qua Si sono settati là Ah li vedi che li ho uccisi C'è un sacco di roba Oh questa cosa Oh Blue Fammi un favore Vedi qua Devi vedere un attimo Di chi è sta testa Di chi è? Puta Non lo so Avevano tra un altro Un nome impronunciabile Ho dovuto fare Enemy Tratto basso Dragon Ed è stata Una cosa difficilissima Ti giuro Sì ok Perfetto Li ho teoricamente Li ho teoricamente Overclimato Dove spawnano Quindi non possono più spawnare Ma tu sei scemo Hai messo dentro La testa di Lehmand Come è fine Quale è quella di Lehmand No era quella di Lehmand No è di Megan No era di Lehmand Guarda Tieni ti do Ti do È di Megan Assassimo Ok c'è ancora qualcosa Qua sotto c'è un tunnel Ma no C'è l'ulto C'è l'ulto Lì ci sono Io vedo lì Le loro scritte Che stanno di lì Mi passi una Oh qualcuno ha un acciolino Voglio fare una cosa Aspetta però A fare esplodere Qua è ancora il loro claim Ma è gigante sta base Vado Oh no 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 Io che cazzeccio Che trovo le cose Basta Omega Che è qui Mi hai trovato quella di ieri Almeno quella di oggi Ce l'abbiamo A fare assieme Allora ti do un compito Bye man Il tuo compito è quello Di riempire questa base Di TNT E al momento giusto Lo facciamo esplodere Adesso te la unclaymo Sto claimando tutta Almeno così Puoi F Unclaim Almeno puoi Aprire tutte le casse Di norma Di norma io Mi faccio pagare 200k Per l'alli Te la faccio gratis No Non mi è piaciuto Il modo in cui mi hai offerta No Sto scherzando Guarda sti qui Stanno qui Blu Questi qua Guardali Dove sono? Sono qui Me l'hai chiuso Io non li vedo Stanno qui Sto ancora più Sono io Un po' di raffa Sono sotto Sì Quell'area di sotto Sì vabbè Comunque mettimi ali Dai stavo scherzando Questo ti metto ali Finito raid Raga io c'ho qua C'ho un inventario Penso di TNT Sai cosa vuol dire? Ok Qualcuno Crascerà Voi avete la fibra Oh Oh Posso ancora Ste cazze No io non ti accetto E tu sei un bimbo cattivo Che cazzo Tu sei parato E vedi Questo qua Ha fatto il pavimento Di TNT Ci fanno così Fammi vedere Dove sono Mega Qui Questo Guarda Blu Ha fatto il pavimento Di TNT Ma è troppo così No È per quello Io che ho detto Questo Siamo di La fibra Ma Non ho problemi Di connessione Sai Avrò problemi Di frame Per il computer Mi canta Dove sono? Oh Ci sono altre parti No Vabbè Poi dai Via Ragazzi qualcuno Crash Fai anche le scale Qualcuno Però in maniera Che riusciamo a passare Lo sapete Che qua Moriamo Guarda Sono qui Oh Dan Passami Passami la tua God Regalamela Perché ho idea Che si stanno Riprendendo Riprendendo la roba Non stanno Prendendo niente Perché sono Chiusi fuori Ah ma sono Non lo so Non so nemmeno Io dove sto andando Andamete più Stanno sopra di noi Qua ora Dragon King Li vedi F climb F Un Ah e buca I sorra Stanno proprio sopra di noi Guarda Li vedi i nomi Li vedi i nomi Se scendi le scale Ci trovi sai Vabbè Tu stai Io ti do Devo portare Ma perché ci sono Delle parti Che dovete Ancora Io come faccio Adesso Vedere dove sono Eh Apri Oh no Uno sopra di te Sta Megan Sopra di te La vedi Megan Ma non l'ho mai uccisa Megan Credo Sta qua sopra Non l'ho uccisa prima Non mi ricordo Erano tre Ecco 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 Oh blu Blu Svegliati Miseria Uh Credo Mallorca Ok Credo che li abbiamo uccisi È sufficienza Io credo che Se le dite sopra Potreste avere un po' di paura Com'è che si chiamavano Dragon Oh Devi anche il male Ancora qua sopra TPA Grazie Grazie X Andy Arriviamo Mi tippo Così Facciamo Vabbè tu accetta a me Lui accetta a te E io Tu accetti a me Vai Anclima tutto Tu accetta a me Sì Io voglio spaccare Tutta la zona Ci siamo tutti No Non ho finito Di mettere Tutta la team Ti devi anclimare Tutte le zone Che hai inclamato No dai Bassa Quante team No No Non hai capito niente Tre No Due Anclima Uno Accendi 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 Ma dove devo anclimare Guardi Mi fai F Anclim Qui F Che tu stai togliendo qualcosa Amiga No Le ho messe Comunque le taglie Bravo E qua non abbiamo finito Io devo finire tutti gli stack Facciamo Facciamo pure le scale Ma non mettere la Sei un muro Sei un muro Sei un muro Porca zozza Io direi che missione compiusa qui raga Sono morto Non ci credo Avevo 12 cuori Avevo 12 cuori Sono morto Oddio ma noi abbiamo un F home Non lo sapevo L'ho killato Perché l'ha killato Non l'ho killato io L'ho killato la TNT La TNT No no Ma il bello è che ero anche distante Ero tipo 12 blocchi Wow Vieni prenditi la roba La testa di blu Tipi la Cioè se l'è preso lui Mega sassia No matte Se l'è presa lui Fermo Henry Cioè già lui ha brutta esperienza Non la viene Tu ce la metti davanti Ridiammi le mie case Dai ti mostro il danno Ma oh Sto finito di mettere Anche le scale Ma Dai dagli le cose Vado a vedere Ero mutato Non avevo capito Prendi Prendi Le stanzano per terra Porca cazzozza raga È spettacolare Vieni qua Blu sta qua la tua roba Vabbè dai te la vengo a portare Vieni Eh blu C'è un problema L'elmo si è È andato Vabbè va bene Vabbè va bene Forse è per quello Si è rotto l'elmo Io sono morto Perché ho perso Eh vabbè dai Te lo regalo io Dai Mamma mia Vabbè Un piccolo danno Mi levo No raga Non abbiamo finito Perché questo non è esploso Non va bene È ossidiana Io direi che abbiamo finito Eh blu Guarda dietro Cos'è Se ancora continuando a far saltare tutto Ma basta Ma sei qua Oh ancora c'è questa questionetta nell'inventario Boom fine Ok ragazzi Chiudo oggi il video di factions Spero che vi sia piaciuto Sono nel warp Trapdoor Qualcosa del genere E ho deciso di chiudere il video qua così Tanto per cambiare E non sa qua come funzioni Spero Cioè Oh Non funziona qua Sapete come funziona il warp Trapdoor Ditemelo ragazzi Io non ne ho la più palida idea Ma Niente Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito vi ringrazio Dei 10 20 iscritti del giorno Eh Allora sì Dimmi Oh È un muro di Trapdoor Forse è il primo che arriva in fondo Qualcosa del genere Sarebbe figo organizzare una cosa del genere Con gli iscritti Basta tipparli tutti qua un giorno Tra l'altro magari uno dei prossimi episodi Lo farò Faremo una gara Su chi arriva Dall'altro lato Non lo so come faremo Comunque sembra una cosa interessante E Niente Spero che il video di oggi vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Un commento E Ci vediamo ragazzi Nel prossimo video di Factions E Vi ricordo che potete giocare con me All'IP del server in alto a destra In descrizione Vi ringrazio per i 10 20 iscritti che arrivano ogni giorno Ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti